buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv bene oggi è mercoledì 21 febbraio 2024 e vediamo subito chi è il santo del giorno perché è un santo molto molto vicino a noi un santo famoso eccolo nella grafica è san pierre damiani visse nell'undicesimo secolo camaldolese visse nelle monastero di fonte avellana quindi a due passi nella fascia preapenninica siamo nelle pendici del monte catria un paesaggio meraviglioso un luogo ideale per lo studio e la preghiera ebbene lo studio e la preghiera furono le due attività a cui si dedicò interamente per tutta la vita san pierre damiani ebbene divenne abate di questo monastero amò lo studio ma anche la povertà si vestiva di vesti molto sdrucite insomma non faceva caso a quello che aveva indosso ma fu anche un uomo importante dal papa grazie appunto alla sua cultura alla sua elevazione spirituale fu nominato cardinale e anche vescovo di ostia e poi compì tante tante opere tante missioni all'estero per il vaticano alla sua morte fu dichiarato dottore della della chiesa quindi una figura elevata molto importante che si ricorda anche nella divina commedia san pierre damiani vediamo ora le previsioni del tempo oggi lo diciamo subito sarà una una bella giornata bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest nel pomeriggio da este il mare è poco mosso la temperatura 4 la minima 11 la massima il sole sorge alle 7 06 e tramonta alle 17 e 42 ed ora possiamo aprire i giornali a partire dal resto del carlino sulla pagina di fano ed eccola l'apertura l'apertura è una buona notizia sul fronte della mala sanità dopo la denuncia di una donna malata di tumore che non riceveva le necessarie prestazioni in modo particolare diagnostiche curative dalla azienda sanitaria ora dopo la denuncia che apparsa sui giornali la cosa viene rimediata malata di tumore l'amarezza dopo la rabbia ora il posto per i controlli l'hanno trovato ci voleva proprio arrivare sui giornali per ottenere quello che era invece diritto normale di tutti lara giommi 44 anni che aveva denunciato sul giornale la sua odissea per sottoporsi agli esami è stata finalmente contattata telefonicamente dall'urpe come se niente fosse insomma senza alcuna scusa senza alcuna spiegazione ho dovuto raccontare al mondo la mia patologia ha dichiarato per vedere riconosciuto il diritto alla cura tanti vivono la stessa situazione molte trasmissioni mi hanno contattato ha detto la donna ma non andrò sono state le reti nazionali che hanno avuto conoscenza di questo caso che hanno cercato di contattarla per farle raccontare questa storia però la donna si è rifiutata dicendo che ormai aveva ottenuto quello che voleva ottenere insomma comunque la sua testimonianza ha avuto la risonanza che meritava ed è intollerabile quello che è avvenuto ha dichiarato la consigliera regionale marta ruggeri del movimento 5 stelle quando la ragione si quando la regione si assumerà le sue responsabilità ha dichiarato tutto ciò intollerabile mi chiedo quando questa amministrazione inizierà a prendersi la responsabilità di questa ma la sanità sulla propria pelle insomma i cittadini pagano sulla propria pelle una situazione che viene denunciata da diverso tempo ma che non si riesce a risolvere ed ora cambiamo cambiamo argomento e parliamo di politica perché sembra prossima ormai la formalizzazione della candidatura di luca serfilippi consigliere regionale quale sindaco di fano per tutta la coalizione del centro-destra luca serfilippi la corsa è partita in titola oggi il resto del carlino ufficiale la sua candidatura a guzzi beh siamo nella stessa squadra il centro-destra unita vince sempre insomma guzzi ormai si è ritirato da questa competizione in realtà lui non si era fatto mai avanti personalmente aveva detto che era disponibile però insomma non è che aveva preso la la corsa in prima persona ed ora invece il centro-destra si è coalizzato sulla figura di luca serfilippi lei è sicuro di avere più sanse di vittoria dell'ex sindaco aguzzi gli dice l'intervistatore al candidato ebbene serfilippi risponde io e aguzzi giochiamo nella stessa squadra e uniti il centro-destra vincerà le elezioni così ha dichiarato e insomma ormai tutto si sta quagliando perché proprio oggi c'è una conferenza stampa del partito democratico che annuncia che verranno effettuate le primarie quindi sapremo domani sui giornali come si svolgeranno queste elezioni quando in che metodo e quali saranno i candidati che comunque si conoscono già da tempo sono i quattro candidati del centro-sinistra circonomia ma non c'entra niente con noi e questa è una contestazione della proposta che ha fatto l'assessore alla cultura cora fattori in merito alle iniziative che il comune di fano organizzerà dal 4 al 10 marzo quando sulla nostra città si accenderanno i riflettori di capitale nazionale della cultura quale riflesso che ci giunge da pesaro ebbene il fulcro della conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa si è puntato proprio su circonomia un festival che nasce ad alba e che è stato insomma importato anche a fano proprio in questa occasione che però insomma non è originario della nostra città non è prodotto della nostra cultura e in questo caso in questo modo si sono espressi i componenti del tavolo economico che avebbero privilegiato più iniziative nostre come il carnevale come il festival passaggi il festival jazz insomma iniziative nate e cresciute nella nostra città il festival è bello ma la tematica ambientale non ci identifica queste le critiche che sono state addotte a questa iniziativa ed ora passiamo a marotta passiamo a marotta perché questo articolo di apertura della pagina 17 del resto del carlino tratta questa tematica un indovina chi personalizzato così il gioco unisce due continenti alcuni ragazzi tra i 9 e i 12 anni della ludoteca di marotta hanno messo i loro nomi e foto nelle caselle una riproduzione identica all'originale grazie alla quale i compagni di lusaka in zambia ora li conoscono ebbene un così un rapporto una conoscenza distanza che attraverso il gioco unisce più continenti e questa è una bellissima iniziativa ed ora passiamo ad urbino e parliamo della variante che dovrebbe trasformare una zona di quattro ettari a cannavaccio in zona industriale ebbene la cosa è contastata variante imab maggioranza boccia alternative il partito democratico e viva urbino hanno proposto di andare ad occupare altre aree industriali ancora libere tutelare santo stefano di gaifa per i nuovi insediamenti industriali si trova un'area diversa da santo stefano di gaifa a chiederlo appunto sono con queste due forze politiche che hanno presentato un ordine del giorno in consiglio comunale che però è stato respinto vedremo come andrà a finire questa storia c'è un alto rischio archeologico per l'area dove dovrebbero sorgere nuovi capannoni industriali la sopraintendenza ha sottoposto la zona a valutazione ambientale strategica e ciò doveva spingere a cercare altre soluzioni hanno detto appunto le forze di opposizione comunque è stata acquistata la fornace volponi per 290 mila euro ed altri soldi serviranno per ribonificare ristrutturare rivoluzionare il tutto è stato acceso a questo proposito mutuo da mezzo milione di euro per effettuare i primi lavori di riqualificazione è un bel tributo è stato detto a paolo volponi il grande scrittore di urbino ed ora siamo a sasso corvaro dove invece la situazione sanitaria langue in quanto non ci sono soldi aggiuntivi per dare più servizi all'ospedale di sasso corvaro un budget al ribasso anche per il 2024 sono stati non concessi quei 4 milioni in più che sarebbero serviti per soddisfare tutte le esigenze e questo ha sollevato la proposta ha sollevato l'iniziativa del consigliere regionale del partito democratico andrea biancani che accusa la giunta regionale acquaroli vuole tradurre le promesse per il lanciarini di sasso corvaro in nulla di fatto questo sarebbe un po' il assunto di questa iniziativa e poi vediamo a fondo pagina che la protesta dei trattori ora dopo aver coinvolto pesaro e fano ora si indirizza verso urbino la protesta dei trattori a urbino fine settimana con i mezzi in città gli agricoltori pronti alla manifestazione ci sentiamo messi da parte di chi dovrebbe essere al nostro fianco è stato detto e poi un input degli imprenditori affinché si completi questa pedemontana questa arteria che dovrebbe essere parallela alla statale adriatica l'autostrada che insomma corre verso la costa la pedemontana dovrebbe unire la provincia di pesaro verso la romagna una arteria molto importante soprattutto per il trasporto delle merci quindi al servizio anche delle dite che operano non sulla costa ma verso la fascia appenninica pedemontana subito il progetto dei lavori così viene richiesto appello degli imprenditori attraverso l'ex presidente della comunità montana severi i soldi ci sono ha detto colleghiamoci appunto con la romagna vediamo anche la pagina di pesaro del resto del carlino dove si parla ancora dello spostamento del mercato al san decenzio l'alimentare unito agli altri articoli abbiamo già parlato ieri di questa iniziativa evidenziando la soddisfazione sia degli ambulanti schiacchi del pubblico una soddisfazione che è emersa anche nei servizi che fanno tv ha fatto sul argomento ed ora questa viene convalidata appunto da questo articolo le rivendite del cibo hanno lasciato l'area dietro il tribunale e sono state trasferite nel parcheggio più grande valerio tamburini referente degli ambulanti è soddisfatto due settori nello stesso posto giovano a tutti perché poi uno attira l'altro quindi c'è una collegamento una sinergia tra questi due settori del commercio tra contenti e scontenti banchi più lontani non è comodo lo stesso ma il flusso si è spostato c'è anche qualche timore soprattutto per gli esercenti a posto fisso che ovviamente per quanto riguarda il mercato hanno un vantaggio per la trazione che il mercato stesso esercita ora il mercato è più decentrato vedremo presto hanno detto quale sarà il nostro destino si parla di quelli che sono stati abbandonati ed ora la novità che caratterizza un po il volto di pesaro dopo la palla di pomodoro la biosfera in piazza del popolo una struttura tecnologicamente avanzatissima che desterà senz'altro la curiosità di tutti i cittadini ma anche di tutti coloro che visiteranno pesaro capitale nazionale della cultura biosfera come l'albero della vita ha dichiarato il sindaco matteo ricci pesaro a un nuovo simbolo ecologico tecnologico popolare la squadra del sindaco presenta l'installazione unica in europa che sarà inaugurata sabato tre obiettivi esaltare il territorio rapporto uomo e ambiente e interagire con i visitatori non sarà affatti una scusa cosa da guardare ma sarà interattiva tra coloro che interageranno con la stessa e poi vediamo anche questa notizia perché per i numismatici sarà una buona e ghiotta occasione la zecca dello stato ha emesso 5 euro dedicati a pesaro capitale è una moneta in rame molto bella dal punto di vista iconografico che insomma immortala questo avvenimento che pesaro ha conquistato villa villa fastigi ad aprile chiude la rsa restano solo galantara e mom baroccio i pazienti saranno piano piano dimessi altri non verranno accettati poi via via poi via ai lavori poi all'ospedale privato ebbene una notizia questa che non è certo positiva gli operatori sanitari hanno già cominciato ad avvertire le famiglie dei degenti signori si chiude e il messaggio a fine marzo infatti la rsa di villa fastigi chiuderà i battenti insomma questa è un'iniziativa non certo gradita specialmente alle famiglie che devono prendersi cura degli anziani la polizia locale va verso lo sciopero pochi stressati con abiti inadeguati proclamato allo stato di agitazione a pesaro il sindacalista coratella l'amministrazione non ci ascolta lo stato di agitazione bisogna ricordare che non siamo dipendenti comunali come tutti gli altri e corriamo i nostri rischi hanno detto appunto i rappresentanti dei vigili urbani di pesaro vediamo anche la pagina no a questo punto vediamo invece la pagina del corriere adriatico il corriere adriatico invece annuncia una nuova una nuova iniziativa per quanto riguarda il piano dell'antenna un nuovo incontro che si terrà il venerdì prossimo nella sala del consiglio comunale alle ore 17 dopo quello che si è tenuto il 9 febbraio scorso online questa volta invece l'incontro sarà in presenza è aperto a tutti e tutti coloro che sono interessati alla localizzazione delle antenne possono intervenire in questa occasione sarà spiegato quali sono gli elementi importanti portanti del piano delle antenne e tutti coloro che sono presenti potranno anche fare le loro proposte le loro alternative magari se qualche localizzazione di un'antenna non soddisfa oppure viene considerata non idonea certo è che non le antenne non possono essere annullate è una legge nazionale che accerta che insomma che convalida la posizione in modo particolare l'esigenza delle ditte che sono predisposte per la telefonia mobile di coprire le zone d'ombra e quindi in qualche modo le antenne devono esserci certo che il comune può comunque cercare un posto più idoneo meno invasivo più salutare per quanto riguarda le onde elettromagnetiche e meno così impattante per quanto riguarda l'ambiente piano antenne corsa contro il tempo entro marzo il consiglio deve votare perché entro marzo deve votare perché dopo la fine di marzo il consiglio comunale non potrà più operare c'è il periodo di assenza che condurrà l'amministrazione comunale verso le prossime elezioni e amministrative che si terranno nel mese di giugno quindi alla fine di marzo il consiglio comunale interromperà la sua attività e poi se ne riparlerà alla prossima tornata amministrativa altre notizie il Corriere Adriatico evidenzia come per Sir Filippi inizia il countdown per la formalizzazione della sua nomina candidato sindaco del centrodestra domani la conferenza stampa con la presenza del presidente della regione Francesco Acquaroli e intanto vediamo come Fano città dei bambini continua ad estare l'interesse di tante tante amministrazioni comunali non solo italiane ma anche estere è stato un prototipo che da Fano è stato poi assunto ad esempio in tante altre parti del mondo ed ora vediamo che la regione Marche la regione Lazio scusate con altri tanti tanti comuni di questa regione sono convenuti a Fano per così studiare il fenomeno del laboratorio città delle bambine e dei bambini una riunione importante con la presenza del inventore di questa iniziativa Francesco Tonucci insieme ad altri funzionari del CNR si è tenuta nella sala della concordia della residenza municipale e qui si è illustrato un po' tutto il progetto da andiamo a scuola da soli da tutte le iniziative del Consiglio dei bambini ai progetti che il Consiglio ha prodotto ricordiamo poi la grande partecipazione dei bambini al carnevale, la didattica nelle scuole Casa Cecchi, Casa Archilei insomma sono tutte iniziative che hanno reso la presenza dei bambini determinante e poi vediamo come i lavori che si stanno facendo nella pista d'atletica Zengarini destano però difficoltà agli atleti che li devono allenarsi lavori senza fine alla Zengarini dei 200 tesserati ora ne restano 77 e questo nonostante che gli atleti marchigiani si stiano facendo onore anche a livello nazionale per esempio Alice Pagliarini ha appena corso la finale dei 60 metri agli assoluti indoor dopo aver conquistato il titolo italiano Iunores nei 60 e nei 200 mentre anche il fratello Francesco si sta facendo onore sono delle punte di diamante, delle punte degli iceberg che però sotto di loro hanno tanti altri ragazzi che si dedicano all'attività sportiva e insomma bisogna accelerare un po' questi lavori perché poi anche l'attività di atletica deve continuare Nuova palestra per il Torelli, questa volta però siamo a Pergola dove c'è la succursale del liceo scientifico Torelli un impianto da oltre un milione di euro la provincia ha consegnato il cantiere soddisfatta la sindaca e il dirigente Balzano il dirigente è appunto il preside del liceo scientifico quindi un nuovo investimento per dare un servizio in più ai ragazzi dell'entroterra vediamo anche la pagina di Senigallia il turismo d'anticipo, i primi sold out via col rombo delle Harley Davidson un raduno che ha tanti tanti appassionati il raduno si svolgerà dal 6 al 9 giugno e apre la stagione turistica siamo in bassa stagione ancora nel mese di giugno ma questo raduno a livello nazionale attirerà a Senigallia tantissime persone i dati del 2003 sono consolanti registrano un aumento di 7.440 presenze e quindi Senigallia punta molto sul turismo quale città appunto che ha la spiaggia di Velluto ovviamente una risorsa inimitabile vediamo anche la pagina pesarese del Corriere Adriatico l'apertura è dedicata alla biosfera di Piazza del Popolo noi ispirati dall'Expo perché è un po' il sale della vita questo albero della vita che è stato un po' il simbolo dell'Expo di quell'anno quando a Milano c'è stata questa grande esposizione internazionale ebbene la biosfera di Pesaro si ispira a quel modello sarà un'icona di Pesaro 2024 il sindaco Ricci e il vice sindaco Vimini spiegano le funzioni della palla 5.0 che inaugurerà sabato prossimo intanto prende forma la CTS Square la nostra mini Silicon Valley con 11 milioni intercettati un grande laboratorio digitale diffuso e qui vediamo ancora la biosfera di Piazza del Popolo che è nella fase di montaggio e poi vediamo la situazione del mercato ambulanti riuniti al San Decenzio disco orario di due ore per la sosta è quanto richiedono per far sì che insomma i clienti del mercato possono agevolmente fare la spesa e poi insomma tornare a casa loro e poi per l'ultima notizia voglio segnalarvi lo stato di agitazione della polizia locale di Pesaro i vigili tre ore dal prefetto adesso si va in comune dall'esito dell'incontro decideranno se continuare o meno lo stato di agitazione anche loro vogliono tutelare i propri diritti e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risultato a risultato all'incontro